In occasione della Festa della Liberazione, il Comitato per la Resistenza con la Fondazione per il Libro e Codice Edizioni ha invitato a Torino Shing Dong-hyuk, l'autore del best-seller autobiografico Fuga dal Campo 14. Nato nel 1982 in uno dei più terribili campi di prigionia nordcoreani, il Campo 14, appunto, dopo qualche anno negli Stati Uniti, Dong-hyuk vive in Corea del Sud. Svolge incontri in varie parti del mondo sul tema La libertà spiegata a chi ce l'ha.